Io stamattina ho incontrato i genitori di Martina, una ragazza che qualche anno fa è caduta dal balcone di un albergo mentre cercava di sottrarsi a un tentativo di stupro. In appello, uno dei reati contestati probabilmente cade in prescrizione. Ora, con quale faccia lo Stato guarda negli occhi un padre e una madre a cui gli sta dicendo che non gli risponderà perché è passato il tempo. Io voglio garantire che quella risposta avvenga in tempi brevi. Così il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo l'incontro con i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese precipitata dal balcone della Camera 609 dell'Hotel Sant'Anna di Palma di Mallorca il 3 agosto 2011, Bruno Rossi e Franca Murialdo avevano scritto al guardasigilli lo scorso 14 gennaio chiedendo di poter essere ricevuti per informarlo della vicenda giudiziaria. Per la morte di Martina sono a processo davanti alla Corte d'Appello di Firenze Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, due giovani di Castiglion Fibocchi, condannati ciascuno a sei anni in primo grado dal Tribunale di Arezzo il 14 dicembre 2018. Lo scorso novembre però i giudici di secondo grado avevano già dichiarato per scritto il reato di morte come conseguenza di altro reato ed era rimasta in piedi la sola accusa di tentata e violenza sessuale di gruppo che però si prescriverà nel 2021. I giudici fiorentini avevano rinviato il processo a settembre di quest'anno a causa di una carenza di organico negli uffici giudiziari. Alcuni giorni dopo però era stata anticipata l'udienza al 10 febbraio. Secondo l'accusa Martina precipitò dal balcone mentre cercava di sfuggire ad un tentativo di stupro i inquirenti spagnoli archiviarono la morte come suicidio ma la tenacia dei genitori di Martina aveva portato la procura di Genova a riaprire il caso. Adesso Bruno e Franca hanno consegnato nelle mani del ministro tutto il materiale raccolto in questi anni.